Siamo in compagnia di Emanuele Rigo, New Traders Lab, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio Alexandra. Come stavo dicendo, una settimana piuttosto importante segnata dai conti bancari e non solo, trimestrali e naturalmente i dati macro. Abbiamo visto vendita al dettaglio in rialzo del 10% su base mensile. Abbiamo visto anche richieste iniziali di sussidi di disoccupazione ben sotto il dato precedente, ovvero quello di settimana scorsa. Quindi non manca ottimismo. Volevo chiederti una valutazione generale del comparto bancario degli Stati Uniti che, come stavo dicendo, tutte le banche hanno battuto le stime. Oggi questa notizia che mi è piaciuta del Wall Street Journal, che ha sottolineato il fatto che comunque Morgan Stanley ha perso quasi 900, anzi 911 milioni legati alla vicenda Archegos. Però ciò nonostante comunque i numeri sono da record, per carità. Sì, tra l'altro le trimestrali pubblicate, i report pubblicati da Morgan Stanley fanno presagire anche che questa perdita sia stata ampiamente coperta da quelli che sono stati risultati e risultati e ancora una volta sorprendono per la loro solidità. Tutto il comparto bancario americano e financial americano delle banche che hanno pubblicato le trimestrali fa registrare un dato, in buona sostanza la conferma di un dato che continuiamo a vedere su questo settore che è la fortissima preponderanza dei risultati sull'investment banking, quindi tutto ciò che è mercato e trading sui mercati è andata benissimo e sta anche sopperendo a eventuali mancanze su altre parti del bilancio. Assolutamente sì. Secondo te potrebbe esserci un paragone tra il comparto bancario USA e quello europeo, non vorrei dire quello italiano, ma quello europeo in generale a livello di interesse da parte degli investitori? Sicuramente sì, anche se per motivi diversi. In Europa abbiamo un approccio proprio conservativo e legato in buona sostanza ai titoli del debito che adesso dovrebbero continuare ad avere un buon risultato. Un po' diversa la situazione. In Europa il comparto bancario dovrebbe avere risultati diciamo decenti, proprio perché sul fronte di politica monetaria, diciamo domestica, intendendo quella europea, la festa continua come verrà confermato molto probabilmente la settimana prossima da Christine Lagarde in occasione della riunione politica monetaria della Banca Centrale Europea. Diciamo per motivi diversi però sì, probabilmente sì. Volevo solo sapere una cosa, se secondo te le stime, siccome tutte le banche hanno battuto le stime, che è un po' anomalo effettivamente, le stime sono troppo basse o effettivamente la performance è ottima? No, la performance è buona ed è legata ai risultati ottimi fatti sui mercati in questi mesi. Ovviamente la componente di aiuto data dalla massa di liquidità enorme, monstre, messa in messa dalle banche centrali, diciamo che ha dato una mano a sistemare i conti delle banche, soprattutto quelle europee che erano un po' più disastrati, penso anche all'Italia per esempio, che avrà delle situazioni al limite del fallimento. Però da questo punto di vista sì, diciamo che c'è stata una componente da parte delle banche centrali molto importanti, come era successo d'altronde anche alla luce e all'alba della crisi del 2008-2009. Allora, come dice il nostro titolo, la settimana Wall Street, tutto quello che c'è da sapere, come stavo dicendo, i dati macro indicano un rimbalzo, un recupero dell'economia ancora prima del previsto. A questo punto, poi tra poco andremo a parlare anche naturalmente di Christine Lagarde. Volevo chiederti se potrebbe esserci tra due settimane esattamente qualche cambiamento da parte della FED, visto che comunque i numeri sono in netto miglioramento. Allora, da questo punto di vista, visto che è uscita proprio poco fa la breaking news, volevo riportarti l'intervento di Waller, della FED, che a torto ragione è considerato successione di Ballard, che abbiamo imparato a conoscere negli anni, impostazione molto colomba, quindi molto accomodante. Alla CNBC avrebbe detto che, diciamo, dal punto di vista della disoccupazione, sai che la FED ha il doppio mandato rispetto alla BCE, sia pieno occupazione, per quello che vuol dire, sia controllo dei prezzi, quindi l'inflazione. Dal punto di vista della disoccupazione ha detto Waller che c'è ancora un bel po' di strada da fare e per quanto concerne invece la dinamica dei prezzi, quindi anche le paure su un eccesso di inflazione, un overshooting dell'inflazione, ha detto che sì, si aspetta un rialzo, si aspetta un rialzo anche marcato, quindi ha reiterato quello che aveva detto Powell, quindi si è allineato completamente alla posizione della FED. Si aspettano il rialzo dell'inflazione, ma sarà soltanto temporaneo e questo temporaneo significa che le paure per un rialzo strutturale dell'inflazione sul medio termine non ci sono e infatti, l'hai detto, ho ricordato anche tu nella vetrina iniziale, i tassi, soprattutto sul decennale, sono calati sotto l'1,7, adesso guardavo 1,57 se non ricordo male, non più tardi di poco fa. Assolutamente sì, sono ad 1,57, quindi come bisogna interpretare questo atteggiamento del mercato obbligazionario che naturalmente è guidato dagli investitori, quindi solo per capirci, appena hai detto una cosa importante, che ci sarà un rialzo dell'inflazione marcato, allora come mai i tassi scendono? Perché lo considerano temporaneo. Ecco, però un altro punto importante, tu come interpreti temporaneo? Temporaneo vuol dire che non durerà per più di qualche trimestre e soprattutto che non diventerà strutturale con un forte rialzo dei prezzi, poi la dinamica dell'inflazione è un po' particolare, per cui se ne potrebbe parlare in maniera più approfondita, però temporaneo significa sì ci aspettiamo un rialzo dei prezzi, sì ci aspettiamo un sorriscaldamento dell'attività economica come già sta avvenendo, ma no, questo non avrà un impatto sulle attese e quindi su ciò che gli operatori, gli investitori e poi anche i consumatori considerano una modifica sostanziale della dinamica dei prezzi per l'obiettivo di medio termine. Per cui non essendoci questo rischio, diciamo che da questo punto di vista la Fed dice sì, lo consideriamo temporaneo, quindi non implica una necessità di agire almeno per il momento. Ottima spiegazione Emanuele, davvero, poi vedremo esattamente se il timing… Bisogna ripartarne veramente per un sacco di tempo. No, bisogna vedere il timing dell'inflazione perché come stavi dicendo comunque è difficile dare una cifra precisa, un numero preciso per quanto riguarda sia trimestri, giorni, mesi, e quindi insomma. Intanto volevo parlare di un altro argomento molto interessante, stiamo parlando della settimana Wall Street e la settimana Wall Street è stata segnata anche dalla quotazione di Coinbase che è un passo storico per il mondo delle criptovalute verso la finanza mainstream, ovvero la finanza tradizionale con una quotazione appunto sul Nasdaq, però tramite direct listing e non IPO tradizionale e cioè hanno un po' scartato, messo da parte, se vogliamo usare questi termini, le banche. Il tuo parere su Coinbase, non naturalmente anche dal punto di vista grafico perché non c'è tanto da dire in quanto è un grafico da due giorni, ma il tuo parere su questa quotazione e sul significato per il mondo delle criptovalute, che cosa segue da ora in avanti a tuo avviso dopo questo passo storico? Allora, secondo me tu l'hai riassunta in maniera perfetta, che è il ragionamento che facevo anch'io su Coinbase, cioè Coinbase diventa in buona sostanza il proxy per tutto il mondo cripto per l'investitore mainstream, quindi l'investitore che magari non si vuole aprire il suo wallet, non vuole andare a tradare direttamente sulle criptovalute. Che vorrebbe farlo? Può farlo attraverso Coinbase. Coinbase è una piattaforma che ha 56 milioni di utenti retail, quindi privati, oltre 7 mila istituzionali, quindi ha una partecipazione importante a una capitalizzazione che tra l'altro, parliamoci chiaro, è il doppio del Nasdaq, per cui già da questo punto di vista dovremmo vedere la potenzialità ed effettivamente quanta prominenza ha questo tipo di quotazione. Come ti dicevo, secondo me diventerà veramente il proxy per lo stato di salute del mondo delle cripto, non ha senso in buona sostanza andare a fare valutazioni di qualunque tipo sul prezzo che, se due quotazioni da due giorni, deve ancora trovare la sua dimensione reale, al di là dell'IPO e al di là di quelle che sono le speculazioni di breve, brevissimo termine. È chiaro che comunque da questo punto di vista la quotazione di Coinbase rappresenta secondo me una pietra miliare, oltre, addirittura più della quotazione sul CME del Bitcoin, del future sul Bitcoin ancora qualche anno fa, diventa veramente la pietra miliare della normalizzazione di un mondo che viene ancora visto a torto ragione come un po' legato ad ambienti o particolarmente tecnologizzati o un'alta specializzazione, diventa mainstream ma tutti gli effetti. Assolutamente sì, assolutamente sì, hai detto proprio bene e tra l'altro ci chiedevamo anche perché sotto questo punto di vista abbiamo sentito delle opinioni diverse, già il market cap è inquietante perché come hai detto tu hai più grosso rispetto a quello del Nasdaq e IC insieme, giusto per capirci, e non solo però, secondo te ci sarà una correlazione tra la performance di Coinbase nel futuro e la performance del Bitcoin? Assolutamente sì e questo è quello che dicevo prima, nel senso che le persone che vorranno avere un'esposizione sul mondo cripto in maniera generale, generalizzata, compreranno in sostanza Coinbase, non dovranno più necessariamente andare a prendersi il Bitcoin perché comunque ci sarà una correlazione importante. Ora, in questo momento storico, anche il livello di quotazione, qui torniamo al discorso del prezzo che tu facevi prima, su cui io non voglio entrare perché diciamo per quello che penso è troppo presto per valutarlo, soprattutto se dovessimo prendere l'esempio dell'inflazione sul medio termine, perché? Perché adesso chiaramente si sta sfruttando tutta una situazione di forte attenzione sul mondo cripto, forte risalita, forte massa di liquidità, che chiaramente va a favorire quel tipo di asset, ma quale sia la vera valutazione del Bitcoin, quale sia la vera valutazione di Coinbase, secondo me lo scopriremo quando verrà meno questa enorme massa di liquidità immessa dalle banche centrali e tornerà delle valutazioni un po' più vicine a quelle che sono le vere valutazioni di mercato. Per cui da questo punto di vista, secondo me, sicuramente è un passo importante, ma sul fronte prezzi starei un po' attento. Assolutamente, sì, adesso vorrei focalizzarmi anche su un tema abbastanza europeo, settimana prossima sentiremo Christine Lagarde che farà naturalmente le proprie considerazioni, che non sono proprie considerazioni, naturalmente sono le considerazioni del board, anche basandoci un po' a tutto ciò che accade con la campagna vaccinale, perché per quanto uno non vorrebbe parlare di vaccini e tutte le polemiche che comporta, se vogliamo anche sulla rete, su Twitter, il mondo ormai si è diviso, il Covid ha diviso amici, ha rovinato amicizie, insomma sei o pro o contro, tra virgolette. Quindi naturalmente la BCE dovrà fare le proprie considerazioni, abbiamo visto tra l'altro alcune anomalie che naturalmente di cui abbiamo parlato, ovvero i cosiddetti acquisti, il cosiddetto bond buying nell'ambito del PEP che era comunque rimasto a livelli abbastanza bassi rispetto alle promesse della BCE, però c'è anche da dire che nell'ultima settimana gli acquisti, anzi nell'ultima settimana gli acquisti hanno raggiunto circa 3,7 miliardi di euro. Ti aspetti qualche cambiamento e soprattutto sei soddisfatto come operatore di mercato da tutto ciò che è stato fatto sinora dalla BCE? Allora, fino adesso sì, tra l'altro l'avevamo commentata insieme l'ultima riunione di politica monetaria della Banca Centrale Europea e anche dopo, secondo me, una partenza un po' falsa di Lagarde in queste ultime riunioni sta lavorando bene anche dal punto di vista della comunicazione che è fondamentale. Sul fronte di modifiche, secondo me, poco tranne un aumento che ci aspettiamo di una ventina di miliardi sul piano PEP, quindi sul Pandemic Emergency Purchase Program, che va a dare un'ulteriore spinta a quello che è il tasso di progressione degli acquisti. Sempre la prossima settimana, chiaramente sarà da vedere cosa succederà sul fronte macro, l'Europa è un po' alla finestra sulla crescita rispetto a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ma anche in Asia, poi magari se vuoi commentiamo il dato del PIL cinese. La campagna vaccinale dovrebbe tornare a migliorare anche nel vecchio continente che ha problemi diversi. Oggi Draghi, sentivo, ha fatto, forse per la prima volta lo sento fare, un discorso legato a rischio calcolato piuttosto che, come dicevi prima tu, dividere la popolazione tra chi vuole chiudere tutto perché la salute è importante e chi dice apriamo tutto perché l'economia è importante. E secondo me questo è un segnale importante che Draghi ha dato e che potrebbe andare a disegnare forse anche la politica europea in tema di Covid nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ovvero un approccio più basato su rischi calcolati perché sappiamo benissimo che la verità sul Covid sta nel mezzo. Sicuramente una progressione importante del numero di vaccinazioni, soprattutto sugli individui più fragili, andrà a togliere la componente quella emergenziale, quindi le tantissime morti come stiamo vedendo in casi di studio come quello di Israele e del Regno Unito e il Covid diventerà, diventerà, non era, probabilmente l'influenza stagionale. Sì, anche se ha comportato davvero tantissime conseguenze piuttosto negative, tra l'altro a riguardo di Covid e vaccini, volevo farvi vedere un altro titolo della WSJ. Innanzitutto la Cina sta, a parte il PIL di cui naturalmente siamo rimasti scioccati, più 18,3%, però questo è anche un po' grazie al fatto, su base annuale, grazie al fatto che l'anno scorso esattamente in questo momento Cina era completamente chiusa a tutti gli effetti. Poi abbiamo visto questo titolo, il secondo, che la Cina sta pianificando ad approvare il primo vaccino estero, in questo caso il vaccino di BioNTech, ma dipende tanto anche naturalmente dall'approvazione del vaccino cinese all'estero e soprattutto nei paesi occidentali. E non solo, per quanto riguarda tutti i problemi di comunicazione e la cosiddetta trombosi, Johnson & Johnson ha contattato privatamente sia Moderna che Pfizer per naturalmente cercare di spiegare al mondo a cosa sono dovuti questi trombosi e cercare di fare la situazione più facile dal punto di vista comunicativo, perché naturalmente ci sono stati tantissimi errori dal punto di vista comunicazione. Intanto torniamo sul PIL cinese, perché il numero è incredibile, come stavo dicendo, più 18,3% del primo trimestre. La Cina sta andando, sta correndo più veloce dagli Stati Uniti a tuo avviso? La Cina sicuramente sta correndo più veloce dagli Stati Uniti, perché ha avuto, diciamo, soprattutto negli ultimi trimestri un momento di stop anche abbastanza importante, diciamo che ha caratteristiche diverse l'economia cinese rispetto a quella statunitense e non scendiamo nelle speculazioni sulla veridicità o meno dei dati. È chiaro che comunque questo dato così forte, così ampio, così assolutamente fuori dall'ordinario ci fa pensare che in Asia almeno, e l'avevamo visto ancora nei mesi scorsi e soprattutto nelle settimane scorse, ci sia un momento economico che sta montando e che vede ovviamente nella Cina la sua tigre ruggente. Negli Stati Uniti stiamo venendo più o meno la stessa cosa, noi siamo rimasti un attimino alla finestra dopo un'iniziale partenza, tutto sommato abbastanza allineata nella fine del 2020 con gli altri paesi, la campagna vaccinale e l'atteggiamento che è un po' diverso, soprattutto nella gestione del rischio tra paesi come la Gran Bretagna e come gli Stati Uniti che hanno anche un sistema diverso e i paesi europei che come prima considerazione fanno quella del rischio per i cittadini e poi quella dell'efficacia negli Stati Uniti e nei sistemi in realtà più sburocratizzati c'è un atteggiamento un po' diverso che ha portato anche ai risultati sulla campagna vaccinale che sono stati chiaramente migliori. L'Europa ha bisogno di ripartire, tra l'altro volevo ricordare che il 30 aprile scade il termine per la presentazione dei piani di cosiddetta, adesso non mi ricordo più come si chiama, relativi a Recovery Fund, di ricostruzione e resilienza, se non ricordo male vado a memoria su un titolo che non mi è mai particolarmente piaciuto e poi dovrebbero iniziare le prime erogazioni a partire dall'estate, cosa che negli Stati Uniti c'è già stata e anche in altri paesi, per cui ci sono tutti gli elementi per una ripartenza anche europea piuttosto forte, è chiaro che ce la dobbiamo giocare bene. Grazie mille Emanuele Rigo, New Charter's Lab, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a te Alessandro. Grazie a te Alessandro.